Il campionato è una partita molto importante, aspettavamo tutti questo grande inizio e quindi andiamo in scena e facciamo in modo di farci valere. Subito comunque una sfida tosta perché Reggio è una delle squadre più più grande. Noi vogliamo fare in modo di dire la nostra anche se incontriamo una squadra collaudata, ben allenata ma allo stesso tempo rinforzata da alcuni acquisti di questo mercato estivo. Però ripeto, è la prima partita, siamo un po' tutti curiosi di vedere come ci presenteremo e ho cercato di dire ai ragazzi facciamo in modo di uscire dal campo stremati e di essere soddisfatti della propria prestazione. Settimana hai detto che hai corretto alcuni errori che col Pornelone sono stati commessi, che Padova ti aspetti domani? Sicuramente è un Padova che sa quello che vuole, cioè fare in modo che si giochi in undici. Quindi ho detto anche ai ragazzi facciamo in modo di giocare in undici perché regalare anche un uomo queste partite importantissime in questo girone non ce lo possiamo permettere oggi, più avanti forse sì ma oggi come oggi non possiamo permetterci di regalare neanche una scarpa di un nostro giocatore dell'avversario quindi dobbiamo fare in modo di giocare in undici, di essere attenti, di essere concentrati su un campo dove ci sarà secondo me non di quella idea là ma ci sarà di quel temperamento che c'è, di quella spettacolarità che c'è all'Euganio quindi si giocherà contro uno stadio intero contro di noi e quindi caliamoci bene nella realtà. Manca qualche pedina per qualche acciacco soprattutto davanti? Sicuramente le condizioni di Ilari e di Mazzocco non sono al meglio, stiamo valutando le condizioni di Altinier sperando che possa essere disponibile in parte per la partita di domani. Ma è una cosa che sto cercando di valutare perché comunque in settimana ha fatto in modo di fare un percorso da quello che abbiamo potuto vedere che ancora non ci dà del tutto delle garanzie per l'averlo disponibile. Come valuti quest'inizio contro una squadra comunque attrezzata? Ti fa piacere perché così il Padova si rende subito conto in che dimensione è? Oppure avresti preferito una via più soft? Averlo più soft o meno soft penso che poteva cambiare poco, quello che conta è noi quindi che sia soft o non soft noi dobbiamo fare in modo di calarci nella realtà e domani come ripeto e ho detto ai ragazzi dobbiamo essere 11 leoni che scendono in campo contro uno stadio intero. No 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 Grazie a tutti.